Il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto-Est coinvolge ad oggi circa 300 associati tra i 18 e i 40 anni, titolari, fili di imprenditori o dirigenti di imprese inserite nel contesto associativo. Il gruppo promuove iniziative che stimolano la collaborazione e lo sviluppo di sinergie, organizza momenti di networking, formazione e confronto per generare contenuti di valore, visite aziendali per far conoscere le realtà ed eccellenze del territorio, convegni, incontri o dibattiti che possano favorire la conoscenza professionale e culturale tra giovani imprenditori. Il Movimento di Giovani Imprenditori a livello nazionale raccoglie circa 13.000 associati, organizzati in 69 gruppi territoriali e 20 comitati regionali presso le associazioni territoriali del sistema Confindustria. Il Movimento svolge un'attività di rappresentanza verso le istituzioni italiane ed europee, offre servizi ai propri associati come le visite imprenditoriali all'estero e business matching fra imprese e start-up. I momenti di maggior confronto con le istituzioni, la società e il mondo imprenditoriale sono rappresentati dai due convegni annuali che si svolgono nel territorio nazionale e che affrontano temi economici, del lavoro e sociali. Oltre agli eventi fisici, i GE Talk sono occasioni di dibattito online su idee proposte riguardo temi strategici per il paese. Il Gruppo Giovani di Confindustria Veneto Est organizza mensilmente attività e iniziative dedicate ai soci. Informali, chiacchiere d'impresa e cena con l'imprenditore sono due format itineranti e conviviali che promuovono la condivisione di esperienze raccontate dalla viva voce dei protagonisti. Un momento di confronto con le best practice ma anche con i fallimenti e le criticità. Vengono organizzate visite aziendali nelle realtà industriali più importanti e rappresentative dei quattro territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Anche queste sono esperienze che continuamente ci arricchiscono e ci permettono di venire a contatto con storie ed esperienze ricche di visione ed ispirazione. Oltre a partecipare ai conveni nazionali, il Gruppo Giovani di Confindustria Veneto Est organizza una serie di eventi istituzionali al proprio interno. All'assemblea annuale si affiancano la nostra festa d'estate e il gran ballo di carnevale, ulteriori occasioni per sviluppare networking tra gli associati e vivere la cultura del territorio. È per noi di fondamentale importanza, inoltre, il capitolo dedicato alla formazione, sia per le soft che le hard skill. Le attività seguono le tematiche più attuali e di forte interesse comune, come ad esempio il passaggio generazionale, credito finanza e digital security, public speaking e team building. In questi anni abbiamo proposto incontri formativi su molte di queste tematiche, sia con un approccio di approfondimento, sia con la volontà di avvicinare i giovani a temi poco affini alle loro mansioni attuali, ma che potrebbero essere utili in un prossimo futuro. Nel 2022 è nato Next Generation Future, il manifesto delle aspirazioni dei giovani imprenditori di oggi che sentono la responsabilità di rappresentare la leadership che dovrà garantire la crescita economica del domani. Il progetto e le proposte sono in continua evoluzione. Per costruire una nuova integrazione a questo documento abbiamo costituito a fine 2023 quattro ulteriori tavoli di lavoro che vedono a partecipare 72 giovani e che stanno affrontando temi come sostenibilità aziendale, strategie di crescita internazionale, evoluzione digitale ed ecosistemi e passaggio generazionale. L'ambizione e la speranza sono che queste nostre considerazioni ci consentano di ragionare in modo congiunto con istituzioni e con gli altri attori interessati sulle idee emerse dall'iniziativa, al fine di qualificarle, raffinarle, correggerle o anche di farne nascere di nuove e migliori, nell'unico interesse di far crescere il territorio dal punto di vista economico e sociale. Per iscriverti al gruppo, avere ulteriori informazioni e per vedere tutte le nostre attività contattaci o seguici sui nostri canali social.